Hola Gringos e ben ritrovati su MucchioTV, io sono VG Future e oggi ci andiamo a fare la nuova taglia leggendaria di questa settimana che è quella del pastore Edwards, capo della sacrilega set della settima generazione. Chissà se sarà impegnativo oppure magari sarà blando come tutte le altre missioni a una stella. Andiamolo a scoprire. Siamo un'occhia di una secta di Settogena che credo che il mankind è about di face la sua finala riconosione. Un'occhia di un'occhia di sottotone che ha già spavuto le nostri da far e wide, promisendo la vita di eterno. Ha già stato in giro, non è stato visto in sei anni, ma ha già detto che ha fatto un'occhia a parlo per un'occhia di mascherina di sinistra. i gruppi di suoi seguimenti sono campati in Roanoke Ridge sul nord di Annisberg aspettando per il loro sceptero e mostrargli il modo magari uno di loro ha un'informazione che può aiutare a lui così che può affrontare la sua proposta bene signori allora ci sono tre indicatori esplora gli accampamenti in cerca di il pastore Virgil Edwards quindi dobbiamo condurre prima un'attività di ricerca di questo tizio allora ah c'è subito qualcuno qua attenzione però possiamo fare con calma in quanto non ci sono non c'è un timer sta pure di spalle questo ok non c'è un'attività di non c'è un'attività di questo lo vede è sceso questo bianco cosa sarà cosa diavolo oh 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 mo se ne accorge si è fermato oh oh mi sa che non ho visto eh lo sapete lo sapete inevitabile oh 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 eccolo qua cioè vuoi dire che l'ho ammazzato è un membro della setta esplori gli accampamenti guarda questo era solo un accampamento praticamente dunque liberiamo quella povera crystal vediamo se succede qualcosa oh non volevo prenderla a pugni ma perché l'ho tramortita ma perché ho premuto il cerchio vabbè quindi praticamente in uno di questi accampamenti c'è il il pastore eccoci giunti eh eh no qua c'è stata gente posso immaginare che potrebbe essere questa la location so while you wait for his word why don't I clear up a little truth from fiction his muscles his muscles bulge from arms the size of three trucks and hands large enough to go the baby lamb in their bombs questi se ne sono accorti raga eeeh vabbè ci ho provato comunque non sta neanche qua a quanto parte questi preti spretati ah no ah no 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 era uno semplicemente uno della serie eeeh eeeh volevate tu eeeh secondo me se fossi in tema ne andrei quello se ne va veramente eeeh 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 ok quindi abbiamo l'ultimo posto dove può stare pure il pastore e quindi andiamo lì è lui sarà lui che sta predicando è un giro è l'ultimo con questo sacrificio il successo sarà sicuro perché il sessore ha di il che cosa è usc che cosa che cosa è usc che cosa che cosa è usc che sparato ecco il primo sacrificio se n'è accorto nessuno hanno ammazzato un tizio ammazzato ma non se ne so accorti eh ragazzone ma questi modi dove sono spuntati questi qua dietro non c'erano ma stanno giù e dove diavolo sta però ci sarà staranno giù nella grotta dove credi di andare ok oh 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 lettera del pastore e questo la dobbiamo leggere allora usciamo da qua dentro che non penso che ci sia un altro vediamo ma invece c'è un altro ma invece c'è altro c'è qualche altra cosa no ma io questo già l'ho preso eh no già ce l'ho presa la lettera ci sta qualcosa qua dentro olio di serpente potente fudenda ah ecco che ci sta arrivando qualcun altro oh 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 i rinforzi oh oh i rinforzi oh 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 i rinforzi quando stanno circondando devo leggere quella lettera lettera del pastore virgilio forte della luce della divina riunisci il tuo greggio e diriggiti all'avamposto loft dove incontrerai l'esercito dei volenterosi per sacra approvazione e diritto divino la misericordia è su di noi il pastore, un folle bene bene questa è la zona dove dovremmo fare l'attacco finale probabilmente guarda questo ce ne stanno altri due era impossibile che non mi vedessi eccolo eccolo venga stanno venuti tutti quanti madonna dove c'è questo dove c'è questo dove cavolo è andato mamma mia quando ce ne stanno eccolo eccolo diciamo così non ho capito dove diavolo sta questo come Alla luce di un'amuse Ni di più, Un'amuse. Un'amuse. Se e i movimenti che ridi di loro, che c'è il lavoro che ci giulleci. Il lavoro di quello che non hanno, che che non hanno, è quello che non hanno. Oh, 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 questo dove usci? Ok, sta quello là sopra lo devo fare fuori. Oh, 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 porca puttana, un Tomahawk. Madonna, non si riesce a prendere. Ma chi è quello che sta sfruttando? Mazi è lui. È lui. È proprio lui. Non lo posso ammazzare. ma donna mi ha fatto penare sta donna qua la dovevo spara prima ci sto io è rimasto solo il pastore che lo stavo pure ammazzando per sbaglio poi intanto ci sta un sacco di roba la piglio un po oh ma questo non riesce ma scusate ma come cavolo devo fare questo senti tutto il cazzo ma la situazione è un po' strana è un po' strana Ah, ce l'abbiamo fatta. Ho capito però. Ma chi cavolo mi sta sparando? Che cavolo sto sparando? Manco uno. Ne vengono degli altri. Guarda il mio cavallo. Maledetto cavallo. Ecco, vai giù. Si viene il cavallo. Madonna ragazzi. Fanculo. Uh! Mo' devo scappare. L'unico. Guarda quanti stanno avendo. Guarda che si buttano, si buttano da sopra. Incredibile. Stai zitto. Uh! Siamo giunti ragazzi. Madonna. Uh! Madonna ragazzuoli. Sei stato impegnativo questo. Sì. Madonna ragazzuoli. Sei stato impegnativo questo. Stato veramente impegnativo. E chi se lo aspettava? E chi se lo aspettava? Ma ha dato pure una sfida giornaliera. Almeno questo. Madonna. Incredibile. Ragazzi allora questo era tutto per questa taglia leggendaria. Che chissà le prossime stelle. Mi sa che da soli una roba del genere. è molto molto difficile farla a 5 o anche a 4 stelle. Comunque questo era tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.